Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo tornati con dei nuovi consigli per il fantacalcio quindi con il nostro appuntamento settimanale, anche se questa settimana c'è stato un turno in più con il turno infrasettimanale, però questa volta siamo normali con il turno nel fine settimana le partite iniziano il sabato alle 3, quindi vi ricordo di mettere la formazione un pochino prima e oggi vi do i miei 9 consigli partiamo come sempre dalla difesa dove il primo nome non è di un top club ma del Cagliari il Cagliari che gioca in casa con il Chievo, Chievo che non segna tanto Cagliari che comunque sa difendersi abbastanza bene, ho deciso di mettere Capuano Capuano terzino del Cagliari, sull'altra faccia ci dovrebbe essere Padoin però non è sicuro Capuano invece dovrebbe essere sicuro adesso che ho visto le formazioni poi da qui a sabato possono cambiare tranquillamente, però comunque Capuano secondo me può essere una buona scelta anche perché il Chievo non attacca molto sulle facce ma attacca più centralmente il che vuol dire che il Cagliari sulle facce può avere un po' più di spazio per spingere anche con i propri terzini il secondo nome invece è di un top club tra virgolette, ovvero dell'Inter che è Skriniar Skriniar che è assolutamente il difensore più costante ma non solo, anche diciamo il giocatore più costante di questa Inter insieme ai Cardi che comunque qualche partita il 5 lo prende, Skriniar difficilmente prende l'insufficienza perché sta facendo delle ottime partite, ha anche segnato quindi per me Skriniar è un buonissimo nome il Cagliari gioca in casa con il Genoa quindi in teoria non dovrebbe subire tanti gol l'ultimo nome è un pochino rischioso che non sembrerebbe perché Chiellini della Juventus potresti andare sul sicuro, dici no, la Juventus gioca il derby quindi non è una partita semplice assolutamente però secondo me Chiellini ha la fuga, l'agonismo giusto per entrare in questo derby ovviamente se la deciderà qualcuno la deciderà in attacco però perché no, un bel calcio d'angolo Chiellini in testa ci ha abituato anche a dei gol quindi potrebbe anche colpire di testa, di naso insomma come vuole lui passiamo al centrocampo dove abbiamo un nome un po' discordante perché l'anno scorso era difensore quest'anno è centrocampista ma gioca come terzino mentre l'anno scorso che era difensore giocava come centrocampista quando giocava ed è Florenzi, Florenzi comunque si è ripreso, si vuole riprendere, anzi si è ripreso anche questa Roma e in teoria dovrebbe giocare come terzino destro è assolutamente da ammettere ma qualsiasi giocatore titolare della Roma è da ammettere perché la Roma sta giocando molto bene in casa con Udinese potrebbe anche qui segnare un po' di gol e Florenzi potrebbe contribuire anche con qualche gol ma anche con qualche assist ma comunque con una buona prestazione il secondo centrocampista, il secondo nome è Del Sassuolo che gioca in casa con il Bologna quindi non una partita troppo difficile, un derby emiliano e Del Sassuolo ha deciso di mettere Sensi Sensi che sicuramente la sorpresa di quest'anno, quello che sta giocando un pochino meglio soprattutto al centrocampo manca ancora Berardi quindi Sensi in teoria dovrebbe prendere le chiavi della squadra e guidare il Sassuolo spero che i tifosi del Sassuolo alla vittoria l'ultimo centrocampista è un pochino rischioso ok perché è della Samp che gioca contro il Milan in casa però è Ramirez, Gaston Ramirez che è tornato in Italia e sta giocando molto bene sta facendo vedere delle buone cose ma non ha ancora fatto vedere come si fa a gol e potrebbe secondo me sbloccarsi contro il Milan perché no, lo dico anche un po' da interista però non solo per quello perché ve lo ripeto Ramirez sta giocando molto bene se lo avete avreste notato comunque i suoi buoni voti però gli manca il gol, potrebbe arrivare passiamo all'attacco dove il primo nome è il Cielito Simeone Ferentina che gioca contro l'Atalanta in casa quindi una partita non facile perché l'Atalanta gioca veramente un bel calcio però anche la Ferentina ha fatto vedere delle buone cose nonostante un inizio un po' balbettante potrebbe segnare Simeone dopo la sfida contro l'Iventus che non è andata molto bene per la Ferentina partita molto sentita dai Ferentini però questa volta in casa contro l'Atalanta potrebbe trovare il gol Simeone anche perché per ora è a una sola rete e non basta in attacco ho voluto fare una follia anzi una pazzia ho deciso di mettere Pazzini che gioca ovviamente nel Verona Verona che è in casa contro la Lazio quindi Lazio è una squadra che gioca veramente bene ha fatto vedere delle buonissime cose però il Verona assolutamente si deve svegliare e la Lazio ha subito tanti infortuni soprattutto in difesa perché manca Bastos manca Basta e manca De Vrij il che vuol dire è una difesa rivoluzionata probabilmente giocherà Lukas Leiva addirittura come difensore centrale insomma ci saranno un pochino di problemi secondo me in questa Lazio e Pazzini lo deve sfruttare tutti assolutamente mentre per l'ultimo nome ho deciso di andare non vi dico sul sicuro anche perché non è proprio sicura la sua titolarità visto che il Napoli gioca anche in Champions la settimana prossima ovvero Lorenzioni Insigne Lorenzioni Insigne sta giocando bene tutto il Napoli quindi chiunque del Napoli andrebbe bene soprattutto in attacco lui, Calleon, Mertens in teoria anche Milik che potrebbe entrare al posto di Mertens però io ho deciso di mettere Lorenzioni Insigne perché potrebbe fare tanto bene in questa partita fuori casa, ok, però con la Spal che ha fatto vedere le buone cose però ultimamente 3-2-0 3 sconfitte insomma vediamo un pochino il Napoli che sta giocando a meraviglia cosa può riuscire a fare questi erano i miei 9 consigli per il fantacalcio come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace a scrivere anche secondo voi quali altri giocatori potrebbero andare al segno potrebbero fare bene e chi avete voi nel fantacalcio se volete qualche altro consiglio comunque vi rispondo sempre qua sotto nei commenti vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto passate al secondo canale, pagina Facebook e profilo Instagram che trovate in descrizione e vi ricordo come sempre be yourself, stay ignorant e vi ricordo come sempre